siamo pronti adesso entro due minuti dovrebbero arrivare tutti i partecipanti ricordo che siamo anche in diretta su linkedin dove ci sono un po di persone in questo momento e il webinar sarà fluibile on demand nelle settimane successive oggi ancora con zucchetti ancora con lavoro digital italia partiamo parliamo con matilde grecchi che avete già conosciuto la settimana scorsa e davide bastinetto parliamo di assistenti virtuali mi ecclisso e ci vediamo dopo lascia parola a matilde giusto esatto condivido ditemi se vedete la presentazione davide la vedi perfetto grazie a tutti e grazie dario ancora per la disponibilità e essere qui stasera con voi a parlare del linguaggio naturale applicato appunto ai virtual assistant giusto due parole di introduzione va beh io sono matilde grecchi qualcuno probabilmente molti di voi mi hanno già conosciuto sono responsabile all'interno del gruppo zucchetti del laboratorio di innovazione l'innovation lab che appunto ha l'obiettivo di portare innovazione tecnologica attraverso in particolare l'intelligenza artificiale nelle soluzioni nei nei nostri prodotti qui con me stasera nell'intervento c'è davide bastianetto che è head of chief department di pat una società del gruppo zucchetti con cui lavoriamo in sinergia appunto sul tema dei virtual assistant e perché oggi parlare di linguaggio naturale applicati virtual assistant abbiamo visto che con in questi ultimi anni l'intelligenza artificiale e ha sbaragliato un settore anche con in questi nuovi approcci tecnologici e il valore aggiunto che può essere portato a livello del business anche in particolare la parte la modellistica legata al linguaggio naturale questo ha creato nuove opportunità nel business ne eravamo fino fino a qualche anno fa abituati a a trattare dati strutturati quindi dati che si trovavano già all'interno dei database con una loro struttura attraverso il linguaggio naturale riusciamo a dare una struttura anche a dati che fino a qualche tempo fa si riteneva anche impensabile di riuscire a utilizzare ottenere un valore aggiunto da da questi in particolare oggi vedremo un po come questo valore del dare una struttura quindi sfruttare delle dei modelli anche applicati al linguaggio naturale possa portare valore nei virtual assistant partirei quindi da una definizione che magari anche scontata per molti di voi ma giusto per contestualizzare come possiamo definire un virtual assistant sicuramente è un software che comunque va a interpretare un linguaggio naturale e ovviamente c'è dietro un opportuno addestramento quindi la possibilità che il chatbot quindi un assistente virtuale sia in grado poi di dialogare attraverso appunto un opportuno di addestramento con degli interlocutori quindi per sembrare il più fluido possibile e quindi riuscire a interagire con con gli esseri umani fornire informazioni o anche compiere determinate azioni diciamo questo è un po l'obiettivo di un assistente virtuale noi come lo facciamo all'interno all'interno di zucchetti abbiamo pensato al virtual assistant attraverso abbiamo sommarizzato tre principali vantaggi che può avere l'utilizzo di un assistente virtuale nei propri processi nei propri in realtà l'interazione con l'utente finale principalmente quindi che cosa può fare un assistente virtuale risolvere problematiche in modalità self service tramite una serie di fac documenti video diciamo che questa principale funzionalità di una fruizione di servizi in self service abbiamo visto anche sul campo che porta a una riduzione significativa del numero di richieste noi abbiamo internamente anche avuto la possibilità tramite varie installazioni anche di verificare in concreto come attraverso la funzione di un assistente virtuale quindi di mettere a disposizione dell'utente dei documenti delle fac legati anche a un'assistenza del prodotto porti un significativo valore aggiunto eh sia all'assistenza sia al all'utente finale che quindi eh in modalità self service riesce a eh trovare la la risposta alle alle sue richieste e quindi un impatto positivo in questo caso su un eventuale customer care eh si ri si ripercuote positivamente con una riduzione appunto nel numero di di richieste create. Un altro macro principale funzionalità eh del che possiamo associare al virtual assistant è quella anche di poter eh aprire in autonomia delle segnalazioni delle richieste e attraverso diciamo anche un processo guidato si può guidare l'utente anche oltre a interagire si può guidarlo attraverso dei una sorta di workflow di processo in cui eh si raccolgono già a fronte di una richiesta dell'utente tutte le informazioni necessarie in modo tale da snellire appunto e ridurre questo tempo medio di risoluzione di una problematica che magari il cliente sta avendo e quindi interagisce con un assistente virtuale quindi in questo caso ehm un'assistenza non attraverso un una persona reale ma riesce a eh appunto a raccogliere tutte queste informazioni che quindi permettono una diminuzione dei tempi di risoluzione e in ultimo diciamo un'altra caratteristica significativa è quello anche della proattività nel senso che non dobbiamo pensare all'assistente virtuale solo a un chiamiamolo a un agente passivo ma anche con una 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 sua proattività nel senso che a seconda di eh situazioni o eh eventi o pagine in cui si trova l'utente ehm o attività che sta svolgendo all'interno magari di pagine e il il chat può proattivamente mostrare dei suggerimenti oppure notificare problematiche in corso quindi diciamo anche questa proattività abbiamo visto essere molto apprezzato dagli utenti ma anche ehm per ehm il fatto di notificare problematiche e in maniera proattiva eh a me velocizza anche la consapevolezza nell'utente finale di ehm diciamo determinate di determinate situazioni quindi noi abbiamo voluto riassumere in queste tre ehm in queste tre principali funzionalità i vantaggi che poi si possono che abbiamo anche toccato con mano eh nell'introdurre all'interno dei nostri sistemi anche di assistenza il l'uso di un assistente virtuale infatti come l'abbiamo fatto attraverso il il nostro virtual assistant Pant dicevo è una società eh del del gruppo Zucchetti che ehm ha un come soluzione engagement engagement a tutti gli effetti è un assistente virtuale diciamo qui ho riportato la la definizione un software di customer interaction management per interagire in tempo reale con i clienti diciamo ehm come si configura ehm è partito come un un prodotto eh basato sulla eh definizione di regole deterministiche ovvero c'è una configurazione iniziale fatta dagli utenti per riconoscere determinati intenti quindi diciamo che ehm è un prodotto consolidato in cui noi siamo partiti appunto da questo prodotto e eh abbiamo fatto un percorso appunto insieme insieme a Pat per eh migliorare questo assistente virtuale diciamo eh la attraverso appunto l'intelligenza artificiale l'utilizzo del linguaggio naturale il nostro obiettivo era di renderlo sempre più intelligente avendo già un prodotto a disposizione che eh faceva già l'assistente eh lo scopo dell'assistente virtuale siamo partiti da quello per migliorarlo in che modo in tre aspetti un po' è stato un approccio eh graduale un incremento migliorativo eh di basato sul step quindi una primo legato alla chat analysis che poi vedremo in dettaglio una parte di creazione automatica di regole perché eh come come vi dicevo questo prodotto la sua configurazione inizialmente eh il suo cuore era basato su regole deterministiche ehm che permettessero appunto di riconoscere che cosa l'utente stesse richiedendo in quel momento fino ad arrivare a una gestione automatica dei test quindi è è un processo di crescita e miglioria eh ed innovazione che abbiamo portato all'interno del prodotto quindi attraverso appunto ehm l'intervento di stasera volevamo anche condividere eh come l'utilizzo e l'approccio del legato al linguaggio naturale abbia portato anche a una miglioria significativa del prodotto rendendolo appunto sempre più intelligente partiamo dalla chat analysis come dicevo avevamo un prodotto basato su regole quindi il primo approccio era miglioriamo quello che c'è non vado a ovviamente a cancellare un prodotto esistente per farlo nuovo ma miglioro lo stato attuale quindi l'obiettivo della chat analysis cos'era abbiamo creato un applicativo eh a supporto della gestione del di engagement che avesse una serie di obiettivi e quindi abbiamo sviluppato una serie di funzionalità quindi sicuramente l'obiettivo era generare un valore aggiunto per engagement perché come dicevo eh l'utente interagisce col prodotto ma volevamo rendere anche più consapevole ehm chi gestiva il prodotto a livello a livello di ehm di assistenza presso il cliente ehm come si stesse comportando quindi anche ehm rendersi conto di che cosa l'utente stesse chiedendo eh al al chatbot all'assistente virtuale e come eh l'assistente virtuale si stesse comportando nella nella risposta all'utente e quindi abbiamo creato anche un sistema di monitoraggio di utilizzo perché eh è sempre buona cosa conoscere il cosa l'utente conoscere l'utente quindi che cosa mi sta chiedendo se gli sto rispondendo correttamente perché l'obiettivo poi era anche migliorare l'accuratezza dei risultati di interrogazione se io conosco cosa mi sta chiedendo mi rendo conto che il mio assistente virtuale eh non è in linea non riesce a rispondere alle alle richieste dagli utenti mi regolo di conseguenza in maniera anche molto più proattiva e tempestiva riesco a eh diciamo ad agire per migliorare la sua capacità di risposta ma anche eh l'obiettivo era semplificare l'esperienza di creazione di regole manuali perché all'interno di questo applicativo ehm abbiamo messo a disposizione alcune estrazioni di ehm contenuti chiave che quindi permettessero di evidenziare già la cune che poteva avere la configurazione iniziale di engagement stesso oltre che estrarre informa informazioni argomenti perché eh la configurazione iniziale ehm di engagement eh si basa sul fatto che io eh ho configurato un set di risposte che eh penso l'utente mi vada a a richiedere quindi l'estrazione di eh degli argomenti quindi analizzando un testo mi ha permesso già di creare quel piccolo valore aggiunto in cui ehm potevo evidenziare se l'utente mi stava eh iniziando a richiedere argomenti che fossero eh nuovi rispetto a quello che io stavo già eh gestendo e quindi qui eh vedete una serie di funzionalità principali quindi anche le statistiche perché quando comunque eh i numeri diventano elevati e il processo di data mining è importante anche solo delle statistiche riassuntive attraverso dei modelli è importante per essere consapevoli di eh riuscire ad estrarre le informazioni significative per eh appunto eh migliorare i processi futuri la validazione delle risposte perché come dicevo il l'assistente virtuale poteva rispondere ma non sempre magari la risposta era attivante al contenuto piuttosto che rendersi conto appunto come dicevamo di lacune eh lacune di risposta più una serie di statistiche per argomenti ed eventualmente eh già individuare ehm legate alle 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 domande non evase alcune migliori e quindi da portare in engagement test poi che cosa abbiamo fatto in questo processo siamo partiti appunto da eh delle analisi delle statistiche step successivo siamo andati a creare in automatico delle regole quindi non facilitare anche la configurazione del prodotto iniziale per già creare quel plus aggiuntivo per eh per i nostri per i nostri clienti quindi semplificare questa esperienza di creazione di regole eh manuali attraverso appunto una generazione ma mh automatica in questo caso quindi siamo già eh andati a inserire delle algoritmi eh di NLP legati appunto alla alla detection di parole chiave un po' stagging tutta una serie di funzionalità che quindi ci hanno permesso a a a fronte di un'analisi iniziale di anche ehm FAQ ticket eh ticket già presenti dai dei nostri clienti favorire questa configurazione sempre basata su regole deterministiche quindi funzionamento base di che aveva il prodotto in gadget ma attraverso già un'introduzione un plus aggiuntivo di eh soluzioni di AI quindi questo processo by step eh di incremento eh e porto un un plus aggiuntivo di valore alla al mio prodotto per scociare poi nella gestione automatica dei test quindi un ulteriore upgrade in questo caso eh attraverso un nuovo approccio quindi i primi due step incrementali ma eh abbiamo su cui abbiamo lavorato si sono basati su un miglioramento dell'approccio esistente l'ultimo 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 passaggio quello di un creare un un cosiddetto che abbiamo chiamato knowledge base connector quindi introdurre un nuovo approccio che andasse lavorasse in parallelo con diciamo la la modalità di eh utilizzo standard di engage stesso in questo caso gli obiettivi che ci siamo posti con questa gestione automatica sicuramente in primis la volontà di ridurre anche il carico dell'operatore nella creazione manuale di regole o comunque ehm se in fase iniziale la configurazione l'avamo introdotta in maniera automatica diciamo ehm questa era vista in ottica manutentiva quindi in al posto di eh lasciare il carico dell'operatore nella creazione manuale nel nel diciamo al passare della delle interazioni con l'utente riuscire a gestire invece attraverso un nuovo approccio questa questa riduzione del carico dell'operatore attraverso e poi altri obiettivi quello di eh gestire in automatico anche testi molto più ampi in questo caso eh con questo nuovo approccio siamo riusciti ad inserire eh anche all'interno di engagement la possibilità a fronte di una richiesta dell'utente di eh proporre al all'utente eh informazioni legati a eh testi manuali eh tutta una serie di knowledge base fac eh andando a analizzare testi corposi quindi attraverso appunto un approccio eh quindi deterministico siamo passati più a un approccio model based in questo caso eh in primis che cosa abbiamo fatto abbiamo introdotto eh un sistema di indicizzazione e ricerca attraverso l'uso di elastic search quindi eh elastic search ci ha servito per eh introdurre questo nuovo approccio quindi eh che ci potesse dare la possibilità attraverso appunto questi strumenti eh inseriti in elastic search attraverso l'NLP eh avere la possibilità di indagare ehm le richieste degli utenti in manuali quindi in testo libero quindi non basarsi più su una risposta su regole ma dare una risposta all'utente basa basata quindi su un approccio su un modello e quindi sulla ricerca della risposta in una in un testo in un testo libero quindi ehm essere più eh diciamo avere la possibilità di eh ampliare anche la flessibilità e potenzialità di engagement stesso quindi prima di addentrarci nella un po' di in come funziona elastic search in come l'abbiamo utilizzato giusto una definizione per chi magari nulla eh non lo conosce eh elastic search è un motore di ricerca eh ed analisi distribuito che immagazzina indicizza dati di ogni natura sotto forma di documenti e fornisce una serie di funzionalità eh di ricerca ovviamente il vantaggio è quando mh le sue potenzialità sono svuotate quando si hanno ovviamente grosse moli di dati noi come l'abbiamo sfruttato abbiamo sfruttato la sua parte di text analysis quindi ehm vedremo alcune eh funzionalità legate appunto alla alle agli strumenti che elastic search mette a disposizione per quanto riguarda la text analysis giusto una breve definizione eh cosa vuol dire fare text analysis un po' l'avevo eh detto prima in fase di introduzione e lo possiamo definire un processo di conversione di testi non strutturati come possono essere il testo di una mella descrizione di un prodotto un prima menzionavamo dei manuali delle fac in un formato strutturato ottimizzato quindi un plus in più ottimizzato per la ricevere quindi riusciamo attraverso questi nuovi approcci nuovi modelli sfruttare un testo quindi test liberi e quindi per noi prima potevano non essere proibili non avere una struttura riusciamo attraverso anche delle configurazioni dargli una struttura ottimizzata anche per la ricerca una ricerca che quindi abbiamo inserito eh all'interno di Engage quindi Engage stesso attraverso Elasticsearch riesce a creare diciamo a creare quel valore aggiunto anche per l'utente finale attraverso dei modelli quindi Elasticsearch effettua un'analisi del testo in due ambiti sia in fase di indicizzazione quindi è il primo setup della quindi il primo momento in cui va a conoscere un nuovo testo sia in fase di ricerca dei contenuti come lo fa attraverso la full text search cosa vuol dire? La full text search in Elasticsearch è una ricerca che va a proporre tutti i risultati rilevanti a differenza di altri altri modelli approcci che si possono incontrare di eh ricerca all'interno di testi non va a fare una ricerca un match esatto con la richiesta eh specifica dell'utente ma va comunque a proporre risultati rilevanti che possono essere anche simili alla eh diciamo al al a quanto l'utente ha richiesto quindi va un po' oltre quello che eh diciamo è la semplice regex sto cercando esattamente quella parola in realtà eh la va più eh si basa anche con una serie di sinonimi e più altre potenzialità e quindi permette di avere questo eh questa flessibilità anche nella fruizione dei eh dei risultati da proporre all'utente ci sono ehm tre step sicuramente per sfruttare la text analysis in Elasticsearch va prima effettuata una configurazione come avviene la configurazione attraverso diciamo eh la definizione dei mappings i mappings eh sono praticamente la struttura eh vanno a definire la tecnologia del campo i campi sono ehm le caratteristiche quindi degli indici che sono immagazzinati nei documenti e consente quindi di specificare quali e come i campi dei documenti devono essere indicizzati sulla base di questo quindi eh dei campi che io ho individuato come campi di testo Elasticsearch solo su questi andrà abilitare la text analysis quindi la ricerca verterà solo su questi campi nei campi che poi ho definito come campi testo io posso definire eh il tipo di analisi quindi entra in gioco l'analisi in Elasticsearch questo ovviamente c'è un analyzer di default il plus aggiuntivo ovviamente è questa personalizzazione che viene messa a disposizione quindi andando a personalizzare anche l'analisi del testo io riesco nel mio contesto a creare comunque a creare comunque quel valore aggiunto che serve all'interno del mio contesto abbiamo detto devo configurare Elasticsearch per capire quali sono i campi che sono testo per su cui fare la text analysis entra poi in gioco l'analisi quindi una volta che il campo è testo devo però preparare il dato quindi devo capire e devo scegliere che analisi fare quindi che sequenza logica di preparazione del mio dato devo avere quindi questo avviene sempre tutto in una fase di configurazione che ogni volta uno deve la preparazione del dato quando arriva una diciamo un testo in input seguirà un flusso però la scelta di che tipo di preparazione fare viene fatta ovviamente in fase di configurazione come dicevamo la text analysis eseguita da un analyzer che sono appunto questo set di regole che governano un po' tutto il processo della full text search come dicevo possono essere configurati e personalizzati quindi per scelte per tipologia di testi non è detto che uno vada a inserire tutti gli step per fare una determinata preparazione del dato e la fix search cosa mette a disposizione principalmente tre passaggi quindi c'è quello che aveva definito un character filter un tokenizer e un token filter il character filters che cosa fa riceve un testo originale con un flusso di karate può trasformarlo aggiungendo cambiando caratteri questo diciamo in in gioco principalmente se ad esempio devo convertire alcuni alcune lingue che sono più modalità caratteri come possono essere l'arabo e il cirillico per renderlo diciamo interpretabile e fruibile dal mio analyzer piuttosto che la rimozione di parti di html che quindi vanno influire poi nella nella mia ricerca quindi è una sorta di pulizia e riconversione della del mio flusso di dati poi ehm c'è la parte ehm vera e propria di struttura e ehm struttura delle mie diciamo frasi che ricevo in input la parte di tokenizzazione che quindi a fronte di una ricezione di un flusso di caratteri lo vado a spezzare in token token sono dei pezzi di eh frasi in questo caso eh molte volte si vanno eh a spezzettare nelle singole parole una volta che ho estratto i token questi a questi token posso eh applicare tutta una serie di filtri che quindi in base ovviamente alla tipologia del testo possono portare delle migliorie al testo diciamo andando a normalizzarlo il più possibile che permettono poi anche di ottenere risultati migliori in fase di richiesta dell'utente e anche in questo caso a seconda della dell'esigenza dei casi o dell'ambito applicativo eh possono diciamo essere aggiunti tutta una serie di eh di funzionalità qui eh abbiamo riportato un po' le principali quindi come la rimozione degli spazi bianchi rimozione di stop works quindi inserire in fase di configurazione delle parole che sappiamo non essere significative come possono essere articoli congiunzioni e quant'altro possono essere inserite inserite come stop works e quindi eliminate dalla dalla dall'analisi la rimozione della punteggiatura uniformare il testo la parte di stemming e così via quindi diciamo anche questa parte di filtri può essere tutta customizzata all'interno appunto di elasticse per migliorare i risultati ottenuti una volta che ho configurato i miei mappi quindi definito su su quali contesti fare l'analisi testuale ho configurato il mio analyzer posso fare diciamo applicare la mia full text search quindi come come funziona ehm una volta che eh diciamo l'analyser ehm dall'analyser passa il mio flusso il mio flusso il mio flusso di richieste quindi il testo entra poi in gioco la full text search sulla sul testo normalizzato sui token normalizzati e la full text search agisce con applicando un modello di scoring dei risultati ehm come il modello che applica ehm è una miglioria di quello che è meglio noto in letteratura come la TF-IDF quindi che si basa sulla sulla frequenza delle diciamo di determinate parole all'interno del del contesto ovviamente c'è dietro una formulazione matematica e elastic search ha introdotto invece questo BM25 che comunque ehm ha un plus aggiuntivo e quindi ehm riesce a ehm fornire risultati ehm più mirati rispetto all'applicazione pura della della TF-IDF la ricerca quando avviene la ricerca per misurare la qualità del del risultato mhm elastic search propone anche uno score e ovviamente c'è uno score di default ehm che viene presentato rispetto alla ricerca effettuata anche in questo caso è possibile la personalizzazione degli algoritmi di scoring quindi ehm anche in base ai contesti potrebbe essere utile non utilizzare lo score di default sicuramente beh si può iniziare da 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 uno score proposto da elastic search ma eh la personalizzazione ovviamente può portare migliorie al contesto in cui si vanno applicare queste queste ricerche. Un valore aggiunto di elastic search sicuramente la la scalare la scalabilità è in grado come ehm dicevo prima nella definizione elastic search è in grado di distribuire e gestire automaticamente i dati e quindi il suo carico di lavoro e mhm la potenzialità è anche che riesce eh a riorganizzare automaticamente il sistema all'arrivo di nuovi dati quindi al variare dalla capacità eh di di un nodo ehm elastic search è in grado anche di di migrare questi ehm questi shard ci sono questi elementi fisici di memoria che contengono i dati in maniera autonoma per bilanciare il cluster quindi per sfruttare poi appieno questa scalabilità ovviamente se uno va a effettuare delle personalizzazioni sicuramente anche l'algoritmo di score scelto per la full text ehm deve essere ovviamente pensato per un'ottica di scalabilità e parallelismo una sorta di map reduce per ovviamente sfruttare le ehm queste funzionalità che elastic search mette a disposizione indicizzazione automatizzata quindi per eh incrementare il valore aggiunto dall'utilizzo di engagement noi cosa abbiamo fatto? abbiamo si introdotto eh elastic search e abbiamo anche poi creato un sistema automatizzato per appunto gestire l'indicizzazione automatica questo perché eh trattando un gran numero di documenti il valore aggiunto è sempre l'automatismo quindi un un sistema che sviluppasse in maniera automatica anche l'indicizzazione quindi non che ogni volta manualmente qualcuno a fronte di un documento o di un'aggiunta o delle modifiche eh facesse tutto manualmente quindi attraverso ehm questa automatizzazione abbiamo creato questo plus aggiuntivo che permette quindi di leggere eh in automatico i dati e strutturarli al meglio per una ricerca efficace perché come dicevo anche a fronte di un nuovo documento ci vuole una configurazione iniziale e quindi stiamo mh abbiamo lavorato anche per andare a automatizzare questa questa parte di dare una struttura al dato in maniera automatizzata la possibilità anche di dare di importare dati da diverse fonti perché anche questo è un plus aggiuntivo attraverso pagine web pdf insomma tutta una serie di eh documenti o eh informazioni dove può essere contenuto del testo la separazione anche del contenuto in paragrafi in base a delle regole impostate perché eh anche questo eh migliora la la ricerca all'interno dei testi e eh anche il dare importanza ad alcuni elementi della pagina titolo di idascalia a seconda della della struttura dei testi a disposizione sicuramente il focus anche su su questa parte sicuramente poi porta un plus eh di accuratezza superiore in fase di interrogazione da parte dell'utente ma non ci siamo accontentati siamo abbiamo voluto anche migliorare questo nuovo approccio in che modo abbiamo introdotto all'interno appunto della basandoci sempre su quell'applicativo di chat analysis delle delle dashboard che quindi eh monitorassero appunto queste risposte e eh permettessero una validazione di queste risposte in modo tale da poter eh gestire un addestramento poi del modello migliorando i risultati della ricerca ottenuti attraverso la stick search in che modo l'abbiamo fatto introducendo anche BERT all'interno del nostro del nostro processo perché introdurre BERT qui abbiamo schematizzato principali vantaggi sicuramente eh l'introduzione eh di BERT nel nostro nel nostro processo eh da risultati migliori più dettagliati perché le potenzialità che ha BERT sono quelle di analizzare frasi più brevi e quindi la risposta è più mirata è più mirata rispetto a elastic search che invece va a fare come dicevamo una full text search o anche un maggiore livello di dettaglio perché vado con BERT ad analizzare una singola frase quindi BERT si eh si basa sul significato della parola poi vedremo insieme con Davide un po' come il funzionamento nel dettaglio di eh come BERT appunto si basa eh per mh appunto generare questo plus questa miglioria sul andare sul contestualizzare meglio la la frase e il significato della singola parola elastic search invece sono token nulla di più sono singole parole qui invece eh BERT introduce un concetto di di contesto e inoltre una misura di confidenza della delle risposte perché comunque essendo un modello eh diciamo elastic search è un libro adottare un sistema di regole un sistema e un modello eh addestrato quindi basato ovviamente su una ricerca di termini in questo caso con BERT abbiamo l'applicazione di un modello eh e una misura di confidenza quindi eh in base ai risultati e che BERT dà abbiamo maggiore attendibilità se questa ovviamente eh misura di confidenza è ben fatta rispetto al magari lo scoring che mette a disposizione elastic search quindi eh a fronte di eh una 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 confidenza di BERT ho questo plus e maggiore solidità anche di quello che sto proponendo al mio utente finale quindi come dicevamo siamo partiti da un approccio iniziale basato su regole quindi io definisco delle regole ho non le mie regole possono essere applicate a nuovi dati quindi a fronte di un nuovo dato quindi nuovo dato per me è una nuova richiesta dall'utente ho delle regole quindi un meccanismo che parte analizza questi eh questi nuovi queste nuove parole questi queste nuove richieste dall'utente estrae diciamo questi intenti e genera delle azioni quindi delle risposte se ho creato se ho configurato correttamente le le mie regole riesco a rispondere e generare quindi una risposta dal al mio utente. il sistema ibrido diciamo l'approccio intermedio con elastic search come abbiamo visto quindi eh attraverso comunque una full text search riesco a dare risposte più mirate non ho più una configurazione basata su regole per infine approdare al nuovo al nuovo approccio quindi basato su un modello. il modello come funziona ovviamente attraverso un addestramento quindi ehm è per quello che abbiamo visto eh l'importanza all'interno delle dashboard di inserire una validazione una validazione che permetta quindi poi al modello in questo caso BERT di migliorarsi automigliorarsi auto apprendere e migliorare col tempo. quindi a fronte di nuovi dati io applico un modello trainato che estrae sempre delle diciamo degli intenti che eh sulla base di quelli posso generare sempre delle delle azioni quindi delle risposte al mio interlocutore. ovviamente non più basato in maniera deterministica su delle regole ferme ma quindi attraverso il modello che impara nel tempo. abbiamo parlato appunto di questo modello miglioramento del nuovo approccio con elastic source abbiamo introdotto BERT giusto una una definizione chi è BERT? eh diciamo BERT è l'acronimo di bidirectional encoder representation con transformers è il nome eh ufficiale di un algoritmo rilasciato sviluppato da Google basato su reti norali. questo algoritmo eh si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'interpretazione del linguaggio naturale perché come dicevo prima eh va a individuare anche meglio il contesto. quindi eh attraverso un addestramento su numerosi testi e su delle validazioni quindi molto semplicati quindi stiamo parlando di grossi moli di dati molti testi a disposizione la possibilità di validarli e quindi dare in passo queste informazioni all'algoritmo che è in grado quindi di ehm contestualizzare quello che l'utente mi sta mi sta chiedendo quindi fornire le risposte più mirate su questo adesso lascerei la parola a Davide per entrare un po' più nel dettaglio di di come funziona e e poi vedere anche l'approccio architetturale che abbiamo eh implementato appunto in questo percorso di miglioramento della del del nostro prodotto per come dicevamo prima renderlo sempre più intelligente anche attraverso questi nuovi approcci tecnologici. grazie Matilde ora inizio a condividere io ok vedete il mio schermo sì Davide allora iniziamo a capire un attimo come funziona BERT un po' dal di dentro allora essenzialmente eh si basa su quelli che sono i transformer che sono una nuova tipologia di rete neurale che sicuramente ha rivoluzionato la capacità di comprensione del linguaggio proprio dei transformer che nascono il BERT e GPT-3 ad esempio per la traduzione o la generazione di testi allora in particolare il BERT utilizza diciamo la parte di encoder del transformer e eh in questo modo si vanno a superare una serie di limitazioni che erano presenti diciamo nelle modalità di reti precedenti in particolare il fatto che quando la frase era un po' lunga era più difficile andarne a analizzarne il significato e quindi in qualche modo persa diciamo la storia dell'inizio della frase e poi soprattutto il fatto che eh le reti precedenti eh non erano scalabili non avevano un approccio un approccio un'elaborazione parallelizzabile eh i transformer invece sono assolutamente parallelizzabili scalano quindi molto molto bene introducono una serie di innovazioni allora potremmo ad esempio eh sicuramente citare quello che è il positional encoding cioè il fatto che come proprio input della rete c'è anche eh la la posizione della parola della frase questo consente ad esempio anche di proprio elaborarle in parallelo e poi quello che è il meccanismo dell'attention e questo meccanismo che è proprio quello centrale è quello diciamo è una un meccanismo che consente di potenzialmente ad esempio facciamo un esempio di una traduzione potenzialmente analizzare tutte le parole in input per andare a definire una parola dell'output e il BERT in particolare usa quella che è la la self attention cioè eh l'attention applicata alla alla frase stessa questo consente di attribuire proprio un significato di contesto alla parola all'interno della frase che era proprio quello che vi vi raccontava prima mattina. come vi ho sempre anticipato lei eh è possibile eh è possibile è stato possibile fare un pre-training quindi di BERT eh su una quantità di documenti assolutamente notevole quindi stiamo parlando di ehm diciamo migliaia di milioni di parole ad esempio è stato utilizzato con tutta Wikipedia e con una serie di di alti libri con un pari numero numero di parole. in questo schema vedete proprio quella che è la modalità di pre-training principale del BERT che va a utilizzare eh diciamo due tecniche che sono non supervisionate quindi si riesce a fare un notevole pre-training che sono quella delle masked language model che è quello che vedete qui cioè vengono prese le frasi originarie vengono mascherate alcune parole e poi la rete deve andare a predire la parola mascherata questo consente di andare a a a far assumere alla rete imparare il il significato della parola del suo contesto in parallelo viene allenata proprio anche con quella che è una next sentence prediction che consente che consente nel predire nel 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 modello riesce a imparare il contesto anche cross tra più frasi. In questo modo il BERT arriva già con un pre-training che gli consente di conoscere un linguaggio e conoscere proprio anche il contesto all'interno di questo linguaggio. I vantaggi quindi quali sono? Sono quelli di poter avere una comprensione migliore che vedete si possono comprendere le sfumature delle parole quindi una stessa parola può avere significati diversi e la comprensione del contesto della frase consente di comprendere quello che è il significato corretto e consente anche la classe del foundation di mettere di correlare parole con significati simili all'interno della stessa frase. Sostanzialmente questa rete riesce a tradurre le parole vedete l'indicato in vettori e questi vettori hanno la importantissima caratteristica di autocontenere significati sia sintattici che semantici quindi è per questo che ad esempio si può dimostrare che questi vettori approssimano molto bene ad esempio anche quei syntax tree che vedete qui rappresentati. Com'è che lavorano insieme però a questo punto elastic e il BERT? Allora sicuramente avremo una fase di indexing e una di search. Nella prima quando c'è proprio l'injection dei documenti viene calcolato il vettore del BERT per ciascuno di essi e vengono salvati in elastic entrambi. Per quanto riguarda la ricerca qui abbiamo fatto due tipologie di sperimentazioni cioè quella di iniziatutto viene chiaramente passata la frase di ricerca convertita in un vettore del BERT e poi BERT lavora proprio per per affinare la risposta tra i documenti che è elastica e ritornato e possiamo farlo in due modi o con una misura diciamo di similarità come rappresentato in questo schema oppure come vediamo in uno dei seguenti schemi tramite un modello di classificatore allenato sopra sopra il BERT. Vediamo per adesso un po' più in dettaglio quella che è l'architettura del globale che abbiamo messo insieme per gestire un virtual assistant in questo contesto. Prima dobbiamo capire, riprendere due concetti importanti che abbiamo visto finora cioè quello di intento quindi la possibilità ad esempio tramite delle regole semantiche di andare a individuare una richiesta, un'intenzione dell'utente e quello che è un approccio tipico dei knowledge connectors che vanno a fare ricerche ben definite intelligenti a partire da una knowledge base che può avere FAQ, video, altre tipologie di documenti. Quindi i primi sono molto precisi, necessitano della configurazione degli intenti stessi, i secondi danno con molto più automatismo una serie di informazioni a partire da diciamo contenuti già già presenti. Per cui questo è lo schema generale dell'architettura. Allora vedete in alto diciamo in bianco gli elementi che sono le possibili fonti documentali che vanno da, le vediamo poi negli esempi, dei manuali HTML online navigabili oppure dei singoli documenti costituiti da paragrafi che potrebbero essere o acceduti direttamente tramite un crawler oppure poi caricati dall'utente in alcuni casi, oppure ancora si può avere un'interazione via web services per andare a recuperare contenuti da un database, da un catalog delle FAQ eccetera. E possiamo andare a trattare documentazioni di vario tipo ma anche video tramite le trascrizioni ad esempio, manuali navigabili, manuali applicativi. Nella parte rosa in alto vedete che, poi lo analizzeremo meglio, c'è una componente essenziale che è quel tag analyzer che consente di suddividere un documento in contenuti e andare proprio a caratterizzare questi contenuti perché, come indicava Matilde prima, proprio questa è la chiave per avere i migliori risultati nella ricerca. Nella parte centrale in giallo vedete la parte di injection a carico dell'indexer e poi il web service che viene esposto per le ricerche. Gli elementi in verde sul basso, sulla sinistra sono quelli relativi alle dashboard che aveva scritto Matilde per il fine tuning del modello, quindi dopo il pre-training che abbiamo visto all'inizio, c'è il fine tuning poi sul task specifico come in questo caso di classificazione e in basso un po' il cuore del tutto che è, diciamo, la componente che mette insieme i due approcci, quello di intenti e quello di knowledge connector. Allora, partiamo dalla parte di recupero dell'informazione. Abbiamo detto che possiamo andare a recuperare praticamente un crawling attraverso un portale che mettiamo a disposizione, attraverso anche integrazioni via web services, come capita in molte circostanze. Il documento, che può essere di tantissimi tipi, come abbiamo visto, viene poi suddiviso ulteriormente in contenuti, che saranno poi le singole risposte che il digital assistant può fornire, e tra questi, analizzandole, andiamo a definire diverse proprietà. Quello che è il titolo, quelle che sono eventuali i keyword di ricerca opzionali che sono spesso presenti in documentazione esistente, l'abstract, il testo e quella che è la sua tipologia. La tipologia serve poi all'utente finale per avere già una visione di quello che è il tipo di riscontro che poi abbiamo. Ad esempio, vede già nel risultato della ricerca se è una pillola video, un video tutorial, una facca, una pagina del manuale, eccetera. Però è importante far notare che queste componenti hanno dei pesi diversi nella ricerca e quindi è molto più accurato ricercare, se pensate a un documento di dieci pagine, contenuti suddivisi per paragrafi, ad esempio, con questa caratterizzazione, piuttosto che sull'intero documento. Qui vediamo la parte che abbiamo descritto prima di Ingestion su Elasticsearch, che avviene a carico del modulo di Indexer che legge dal database sul quale poi il tag analyzer ha già preparato tutti i documenti. L'Indexer poi può fare eventuali altre ottimizzazioni in ottica, soprattutto BERT, e quindi poi inserisce il vettore del BERT e il documento in Elastic. Viene poi esposto un web service REST, al quale sostanzialmente viene passata qual è il sistema multitenant, il tenant per cui fare la ricerca, e quali sono le sorgenti dati all'interno delle quali fare la ricerca. Immaginate ad esempio un virtual assistant che risponde a utenti che possono avere acquistato prodotti distinti, quindi la risposta per il singolo utente viene personalizzata andando a ricercare sulla knowledge solamente dei prodotti che il cliente acquista. Come avviene la gestione combinata di semantiche a ricerca documentale? Allora vengono sempre contemporaneamente eseguite, invocato il motore semantico e la ricerca documentale, dopodiché sulla base della tipologia di risultati ottenuti questi vengono combinati insieme e qualora la semantica avesse anche definito un flusso interattivo, in quel caso lì viene lanciato il flusso interattivo, altrimenti vengono mostrati tutti i documenti ritornati dalla semantica e dalla ricerca documentale l'utente che poi può andare a visualizzarli. La visualizzazione delle eventuali alti feedback dell'utente poi vengono raccolte dalle dashboard di analisi, che quindi mostrano tutti i contenuti che sono stati visualizzati dall'utente, quelli che sono stati poi sia quelli ritornati che quelli visualizzati e tra le tante funzionalità consentono anche proprio il training del modello BERT e quindi contribuiscono alla parte di il fine tuning dello stesso. Una scorsa veloce a quelle che sono poi le tecnologie che abbiamo utilizzato, diciamo a livello infrastrutturale è chiaramente molto importante avere un sistema assolutamente scalabile, quindi abbiamo usato Kubernetes con Docker, application server Java, come servizi abbiamo usato il BERT as a service e l'Elasticsearch e tutti gli sviluppi sono stati fatti in linguaggio Java e in Python. Ok, ora vediamo alcuni scenari che sono proprio corrispondenti a quello che abbiamo descritto sinora. Partiamo con un assistente virtuale che potete trovare sullo store di Zucchetti, che si basa su intenti e che si porta dietro tutte le migliorie che abbiamo visto a partire dalla creazione, diciamo, automatica degli intenti, alla definizione della operatività, a tutte le dashboard di analisi che consentono di migliorare continuamente quello che è il servizio. Quindi qui vediamo Zoe che è l'assistente virtuale dello store, attivamente mi sta mostrando un menu delle richieste più frequenti, con tutti i link che mi consentono di andare poi a recuperare le informazioni, e qui vediamo esempi di intenti riconosciuti dalla semantica. Ad esempio questo l'utente sta chiedendo se per fare un acquisto bisogna essere registrati, qui c'è una risposta che il bot può dare e adesso vedremo come il dialogo con l'utente mantiene il contesto, per cui adesso l'utente chiederà informazioni sul processo civile telematico. il contesto viene mantenuto, vedete che non viene mai cliccato il menu, e quindi se io adesso vado a chiedere qual è il listino, l'intento viene contestualizzato all'interno dell'ambito applicativo per cui la risposta che ottengo è, diciamo, esattamente questa. Ora passiamo ad un altro esempio, sempre un sistema di produzione che potete andare a vedere, questo è relativo a Tiki che è l'assistente dell'applicazione Tic Pro, quindi nel primo caso eravamo su un portale, il portale dello store, in zucchetti, qui siamo dentro un applicativo, l'applicativo è Tic Pro, e qui vediamo Tiki che si presenta all'utente. In questo contesto siamo partiti dall'esistenza già di un'importante serie di knowledge, in particolare qui vedete una serie di pillole video di aiuto all'utente, un manuale navigabile interattivo che è presente dentro l'applicazione Tic Pro, e qui vedete che c'era già presente un sistema di FAQ, di FAQ knowledge base, suddiviso abbastanza classicamente in argomenti e qui vedete l'insieme delle FAQ navigabili. Allora adesso andiamo a vedere la differenza rispetto a prima. L'utente pone una domanda, vedete qui c'era un menu proattivo esattamente come nel caso precedente, cosa sono i rati dei risconti, la risposta in questo caso è proprio una combinazione di risultati portati dalla semantica e dalla ricerca sul documentale. Quindi mi viene ritornato una FAQ, mi viene ritornata una pillola video, vedete qui visualizzabile direttamente all'interno dell'assistente virtuale. e poi anche delle singole pagine di help. Quello è l'help online navigabile che avevo visto precedentemente. Iconizziamo e ora vediamo come l'assistente gestisce la tua attività anche sulla base di un contesto di navigazione applicativa dell'utente. Quindi entrato nella sezione amministrazione finanza, vedete che è riconosciuto in questo caso un intento relativo alla presenza di novità e queste vengono visualizzate. Adesso vediamo due ultimi esempi, questi sono in via di realizzazione. In questo caso siamo all'interno di un portale applicativo, anche qui c'è una attività. Vedete un intento in cui si può guardare un video. E ora vediamo come coesistono le modalità intento e keybconnector. Quindi qui abbiamo una risposta con un link che gli utenti hanno configurato. Punta direttamente a una pagina del manuale. Ora ne viene fatta anche un'altra relativa a un nuovo intento. Vedete che anche qui c'è una risposta con un contenuto, in questo caso neanche senza un contenuto sintetico ma direttamente un link. E ora se vado a chiedere la gestione dei contratti ho un insieme di informazioni che mi vengono presentate. Quindi in questo modo vedete che è molto interessante perché vado a avere anche delle startup molto veloci di progetti perché recupero tantissimo dell'esistente. E anche quest'ultimo esempio, abbiamo un documento ritornato, anche questo è una pagina del manuale. Poi tenete conto che questi progetti sono sempre comunque multilingue, per cui tutti i discorsi fatti vanno assolutamente in modalità multilingue, sulla base appunto di quelle che sono le caratteristiche dell'utente. Ora vediamo anche l'ultimo esempio della parte demo. In questo caso si tratterà di un sistema in cui la parte di analisi dei documenti ha lavorato molto perché è riuscito ad andare a identificare dei singoli contenuti all'interno di documenti HTML. Si tratta di documenti contattualistici. Immaginate documenti della lunghezza all'incirca di una trentina di pagine con poi ognuno una serie di altri documenti allegati relativi a informazioni aggiuntive. Quindi in questo caso abbiamo l'assistente virtuale che mi va a chiedere in maniera precisa di specificare quello che è il documento contattuale di interesse in maniera da poter dare risposte relative a quello. Quindi guida l'utente nella scelta del documento contattuale di interesse. A questo punto facciamo una prima domanda, ne vedremo tre. Chiedo informazioni relative al contratto a termine di questo contratto. Vedete questa è la risposta che viene estratta dinamicamente e questo è il contenuto originale. Per cui la risposta è una pagina dinamica che viene ritornata dall'assistente virtuale. Il secondo esempio è relativo sempre a una richiesta in questo caso di mensilità aggiuntive. Vedete che vengono tornati anche in questo caso qui dei paragrafi. E qui la parte interessante proprio è la comprensione del significato perché vedete che qui nel testo non c'è assolutamente scritto da nessuna parte mensilità aggiuntiva. Eppure sono proprio quelli documenti che vengono ritornati. E per ultimo andiamo a vedere anche come è possibile andare proprio a estrarre singoli contenuti. Vedete questo limiti di età. La parte interessante è che nell'originale è all'interno, vedete, di questo paragrafo, una sorta di dizionario. Qui è stato molto importante andare a fare questo tipo di suddivisione perché vedete che tutti, tutte queste voci, proporzione numerica, limiti di età, sospensione, diventano dei singoli contenuti. E in questi limiti di età diventa proprio il titolo. Per cui l'elastica e il Berkman vanno a trovare questo tipo di contenuto con priorità molto maggiore rispetto a un limite di età eventualmente presente all'interno di documenti e di testi, parti di testo. Con questo abbiamo finito i nostri esempi, vi ringraziamo e lasciamo spazio alle domande. E ci sono alcune domande in effetti. Allora, vado a prendere dall'inizio. Dunque, anzi no, comincio da questa. Le ruse possono essere modificate e variate in qualsiasi momento, chiede Doriano. Sì, assolutamente. Ma è una cosa in tempo reale, per cui... Ok. Regole e controllo del testo garantiscono l'efficacia delle risposte dell'assistente virtuale. Il controllo del testo viene effettuato da un software ma la gestione del software garantisce la traduzione e la risposta corretta. Allora, tutto il processo è un po' quello che abbiamo visto in quest'ultima parte, per cui c'è tutta questa catena e poi anche chiaramente la parte di dashboard di validazione che si va a occupare proprio di questo. C'è il valore aggiunto appunto in questa configurazione che uno fa, quella pulizia piuttosto che analisi per migliorare appunto il testo in ingresso per renderlo fruibile per la risposta. C'è questa domanda che non mi è chiara. Dice, c'è un sistema nell'assistente virtuale che corregge gli errori di scrittura e attende la frase corretta per poi effettuare la risposta corretta? Diciamo che nell'assistente virtuale ci sono dei meccanismi che consentono di interpretare il testo anche se sono presenti errori di ortografia, di digitizzazione. In questo senso sì. Poi ci sono dei meccanismi che in base agli intenti identificati possono chiedere conferma all'utente della bontà della risposta, ci sono meccanismi di chiesta feedback interattiva sulla base di come sta andando il dialogo, per cui sia anche nel caso di tante risposte trovate è possibile poi andare anche a chiedere conferma. Ok, chiaro. Allora adesso vi chiudo con un'ultima domanda perché siamo andati un po' lunghi, poi le altre chiedono grazie per la presentazione, sarà possibile scaricarla? Scaricarla non credo, però la trovate su LinkedIn on demand, quindi potete accedervi in qualsiasi momento e rivederla e rimarrà lì a disposizione. Chiudo con la solita domanda che ormai Matilde conosce ed è uno spazio ai giovani. Se un giovane laureando in ambito STEM o in altri settori vuole, è praticamente interessato a questa nicchia, a questo settore di competenze, che cosa gli suggerireste di fare, di procedere per progettare la sua carriera in questa direzione? Vado io, a parte io Davide. Allora, sicuramente è una focalizzazione e una verticalizzazione un po' dell'ambito all'interno di quello che è l'artificial intelligence. Quindi sicuramente partire dallo studiare proprio step by step l'NLP, quindi partire dalle librerie, approcciarsi ai primi anche esperimenti in autonomia, perché comunque questo come Big Data che avevamo visto volta scorsa, sono due ambiti che comunque richiedono la verticalizzazione di alcune risorse, come abbiamo fatto noi all'interno del laboratorio, sia in ambito Big Data che ha maggior ragione anche per questo ambito. Sicuramente è un potenziale, come dicevo all'inizio, molto elevato, che porta un grosso valore aggiunto anche al cliente. Quindi investire su questo ambito è sicuramente interessante. Però partirei dalle librerie, diciamo. Ma si può spingere verso l'IoT? L'IoT? Ma in realtà il Big Data è più legato all'ambito IoT? Non intendo l'assistente virtuale. Perché allora l'assistente virtuale, se dici l'interazione quasi in real time con l'utente, sì, diciamo, è già quello che fa, perché comunque a fronte di una domanda c'è una risposta. Anche l'apprendimento può essere poi, diciamo, automatizzato e velocizzato. E quindi l'IoT, diciamo, è tutto l'Internet of Things. Quindi è dove ho flussi di dati, ma in questo caso sono più dati legati a sensoristica, quindi rientriamo più in un mondo Big Data. Oppure, sì, magari ci sono degli aspetti più di proattività relativi a questi, perché adesso quindi li abbiamo visti relativamente a un utente che si collega a un'applicazione. Però l'assistente virtuale comunque è assolutamente multicanale, funziona con i vari Alexa, funziona su PIMS, Whatsapp e su tutti questi canali qui, su Input anche IoT, è possibile partivamente informare l'utente e avere vantaggio dell'assistente virtuale, diciamo, un dialogo user friendly con l'utente finale. E' la sinergia più che altro, cioè la sinergia tra IoT e NLP, quindi in questo caso assistente virtuale, che quindi avvantaggia anche, diciamo, il processo di IoT. Chiaro, e come al solito non ho approfittato per fare le mie domande personali. Direi che abbiamo chiuso, quindi ricordo che trovate sul sito di Lavoro Digital Italia Zucchetti i prossimi webinar, la Coding Challenge promossa da Zucchetti e gli annunci di lavoro. Vi trovate questo webinar on demand su LinkedIn sulla pagina Startup Consulting, quindi potete rivederlo, salvarlo il link e rivederlo quando avete più tempo. Grazie a tutti. Grazie Matilde, grazie Davide e buona serata. Grazie a tutti.